buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 2 febbraio 2022 il sole oggi sorge alle 7.23 e tramonta alle 17.20 oggi iniziamo la giornata ricordando un episodio particolare per quanto riguarda il Vangelo ovvero la presentazione di Gesù al Tempio si festeggia appunto il 2 di febbraio era un rito era una tradizione per gli ebrei presentare i loro nuovi nati al Tempio al Signore e anche Giuseppe e Maria non si sottrassero a questa usanza arrivati a Gerusalemme ed entrati nel Tempio furono salutati con particolare entusiasmo da un vecchio si chiamava Simeone Simeone lodava il Dio perché aveva avuto una promessa dallo Spirito Santo così ricordano i Vangeli di non morire se non prima di aver visto appunto il Messia il Signore e per questo presi il bambino e lodò il Dio e fu una nuova una nuova conferma per quanto riguarda la divinità appunto di Gesù che in quel momento era ancora un piccolo neonato un bambino ma oggi è anche un giorno particolare perché la candelora ovvero la festa delle candele risale alla tradizione di benedire le candele nel giorno di oggi che poi sono le stesse candele che verranno usate domani nella festa di San Biagio che è il protettore della gola insomma se avete dei mal di gola domani fate una preghiera a San Biagio può darsi che ne ricevete un beneficio. Ciò detto vediamo subito le previsioni del tempo e vediamo che il tempo si mantiene ancora buono soleggiato ancora le alte pressioni governano la regione cieli sereni o al più leggermente velati per il passaggio di nubi alte nel pomeriggio le massime arriveranno a 14 15 gradi il mare poco mosso i venti spireranno sulle coste da nord ovest nell'interno invece da ovest nord ovest insomma il sole comunque ancora continua a mantenere non dico freddo non dico miti però insomma attenuabili le temperature invernali oggi questa mattina purtroppo non non abbiamo non abbiamo il carlino che tarderà ad arrivare in edicola quando sono andato a prendere i giornali ancora il carlino non c'era e quindi facciamo la rassegna stampa con il corriere adriatico vediamo qui la pagina di fano e vediamo che la prima pagina è dedicata alla politica sì perché c'è ci sono grosse turbolenze all'interno del partito democratico giunta minardi alza la posta in gioco tinti il vice sindaco invece di fanesi un gioco piuttosto pesante perché si chiede un rimpasto di giunta non una dimissione cioè non si chiedono le dimissioni di fanesi che appartiene all'altra corrente quella opposta a quella di minardi ma la diciamo così il cambio della delega di vice sindaco che dovrebbe passare invece a dimitri tinti la frattura nel pd si scarica sull'esecutivo input al sindaco la delega per la cultura dovrebbe andare alla cucchiarini la cultura attualmente nelle mani del sindaco che la gestisce in prima persona le fibrillazioni all'interno del pd fanese minacciano dunque laceranti ripercussioni anche nella giunta comunale la richiesta di togliere la delega al vice sindaco cristian fanesi approvata maggioranza dal direttivo del partito che si è riunito lunedì scorso mette infatti il sindaco massimo seri nella classica condizione dei due forni insomma anche lui si trova un po nell'impasse cosa fare decidere per conto suo o decidere quello che indica il partito di maggioranza della sua coalizione punto interrogativo fanesi è in quota di futuro democratico la minoranza interna delle pd locale infatti la si è rivelata anche nell'ultimo congresso del partito tenere duro significa non assecondare la richiesta di revocare la delega oppure bisogna accettarla comunque ieri il segretario tommaso della dora è intervenuto sulla vicenda senza specificare per occhi debba essere il nuovo vice sindaco anche se punto delle voci di corridoio indicano in dimitri e tinti il nuovo candidato a questa carica insomma alla origine di tutto questo ci sono le divergenze per quanto riguarda il futuro di aset spa il nuovo assorbimento che dovrebbe essere fatto da marche multi servizi e a questo proposito voglio segnalarvi l'articolo della seconda pagina del corriere adriatico che appunto affonda la conoscenza su ritroscena di questa vicenda che vede il suo fulcro nel documento che è apparso proprio nei giorni scorsi l'ha pubblicato proprio il corriere adriatico un documento che prefigura appunto l'assorbimento da parte marche multi servizi di aset spa fuga di notizie questo documento doveva restare segreto riunione urgente del consiglio di amministrazione un confronto sullo studio segreto segreto appunto di era fibrillazione anche al vertice di aset oltre all'interno della giunta di fano nel dossier citata una voce di bilancio resa pubblica solo otto mesi dopo insomma vedete come le situazioni sono poco chiare dunque punto interrogativo c'è stata una fuga di informazioni riservata di aset alla base di questo studio bisogna chiarire anche questo e riguardo allo studio di era il quesito principale verte sulla stima patrimoniale dell'azienda ebbene il è stata fatta quest'ultima è stata fatta sui dati tratti dai bilanci pubblici o sui valori reali che richiedono ulteriori informazioni aziendali la cui divulgazione non era stata autorizzata sono delle domande che si pone il corriere adriatico ma a cui si dovrebbe fornire una risposta per fare chiarezza appunto sul futuro di questa azienda e non è una questione che non riguarda i cittadini perché insomma ricordiamo che aset gestisce dei servizi importanti e soprattutto è quella che manda le bollette a casa di tutti i contribuenti overdose di eroina e coca il processo a due spacciatori vediamo che il corriere adriatico parla di un fatto di cronaca accaduto il 19 marzo del 2019 quando morì sugli scalini della chiesa di sant'agostino paolo pedini boni e morì per una overdose gli imputati due fanesi rischiano cinque anni sono accusati di avere ceduto cocaina ed eroina in quantità non precisate al 41enne che assumeva le sostanze a casa di uno dei due insomma la droga ha portato pedini boni al malore e alla morte per insufficienza respiratoria acuta dovuta appunto alla intossicazione dei tossicodipendenti a fondo pagina vediamo che è stato aggiudicato l'appalto per i lavori del sant'arcangelo che sarà trasformato in casa del carnevale in elaboratorio del carnevale in casa della musica con un ribasso del 25 per cento a vincere la gara è stata è stato un dunque è stato un raggruppamento temporaneo di imprese di cui fanno parte la costruzione pensi di maddaloni nel casertano quale mandante e poi il consorzio stabile artemide di roma mentre l'esecuzione dei lavori è delegata alla cooperativa edil fast con sede a parete sempre nel casertano decisivo il ribasso al 25 per cento su una base d'asta di 5,3 milioni di euro un appalto importante una realizzazione che molti fanesi attendono perché è stata ormai divulgata promessa da tanto tempo e quindi tra poco dovrebbero iniziare i lavori un quarto di pioggia in meno e nei fiumi è calata la portata emergenza ad urbania il gruppo acqua riferisce i dati del 2021 dell'osservatorio serpieri come reagire insomma nel 2021 abbiamo avuto una grossa siccità ora il quesito è questo dobbiamo utilizzare le riserve d'acqua che sono appunto nell'entroterra delle fanese oppure dobbiamo centelinare queste riserve perché poi possono servire solo nei casi di emergenza la tendenza generale è quella di realizzare un invaso sulle candigliano nel territorio di apecchio serve però dibattere e confrontarsi ancora infatti la scelta finale non è scontata e l'appello dei naturalisti che invitano ad effettuare sopralluoghi sul territorio interno non può rimanere inascoltato quindi ancora indagini ancora sopralluoghi per verificare insomma la portata di queste riserve d'acqua preziose in via trave si reclama il controllo dell'autovelox e torniamo a fano e vediamo come l'autovelox da una parte viene installato e viene rifiutato dall'altra non viene installato e viene richiesto per esempio su via roma dove appunto cadono molti incidenti specialmente nei tratti urbani delle frazioni di rosciano cucurano carrara insomma lì è prevista l'installazione di un autovelox però insomma per i residenti non è quello il provvedimento da realizzare occorrono provvedimenti strutturali come marciapiedi dissuasori rotatori insomma cose che possono rallentare fisicamente la velocità degli autoveicoli mentre in via trave non è prevista l'installazione di un autovelox fisso però i residenti lo vogliono perché hanno visto che i cartelli e la segnaletica non basta a frenare la velocità degli autoveicoli siamo sulla valcesano a pergola a pergola vengono concesse deroghe al numero di pazienti e autorizzazioni ai pensionati medici di base ecco le soluzioni alle carenze pergola nel cuore ringrazia la regione e l'asur si parla della grave problematica della mancanza dei medici di base che sta interessando ormai da diversi mesi in particolare alcuni centri della vallata del cesano come appunto pergola san lorenzo in campo frontone e appunto tutti i centri san michele al fiume e via dicendo la regione marche e l'asur da tempo stanno lavorando per offrire una soluzione che contribuisca a risolvere i disagi che lamentano i cittadini ma ancora nulla di fatto è stato fatto dall'inizio di questo mese l'area vasta 1 tra i vari provvedimenti alzerà il massimale dei pazienti ai medici di base che potranno averne di più in soprattutto quelli delle aree vicine ai comuni interessati da questa situazione ad entrare nel dettaglio è il gruppo consigliare di pergola nel cuore che è interessato al problema e appunto sta stimolando la regione per risolvere questo handicap un principio di incendio si è verificato a marotta in un camino che è andato a fuoco una canna fumaria intasata l'abitazione le famiglie messe in sicurezza dei vigili del fuoco è successo ieri intorno all'ora di pranzo in via lombardia per una canna fumaria rimasta intasata rimasta occlusa e quindi si è incendiata si è elevata una colonna di fumo molto alta bianca che è stata vista anche da lontano e quindi sono accorsi i vigili del fuoco che sono intervenuti con due mezzi e hanno messo in sicurezza lo stabile i pompieri sono saliti sul tetto della palazzina a due piani per domare l'incendio per fortuna nessuno è rimasto ferito vediamo la pagina di senigallia dove l'attenzione è posta al caro energia aperto a cena soltanto su prenotazione è un albergatore che cerca di risparmiare il più possibile la fonte di energia perché i prezzi delle bollette i costi delle bollette sono saliti alle stelle si tratta di vignoli vinicio vignoli o vignoli titolare del tucano durante la settimana dice ho deciso di ridurre l'orario per risparmiare aperto a cena durante la settimana solo su prenotazione così appunto si è organizzato questo ristorante pizzeria per far fronte al caro bollette pioniere di una riorganizzazione che sta investendo l'intero comparto e non solo dopo la nota pizzeria del lungomare da vinci molti altri si sono attivati e lo stanno facendo per contenere i costi insomma bisogna fare quello che uno può per risparmiare soldi alluvione spese legali e risarcimento l'assicurazione è attivata sette anni dopo c'è l'ok finalmente della giunta il sindaco olivetti dice non so spiegarmi perché non sia stato fatto prima ebbene la giunta olivetti nella sua ultima seduta ha infatti affidato l'incarico di rappresentare l'ente il comune chiamato in causa per responsabilità civili ad un legale indicato dall'assicurazione per quanto riguarda l'alluvione ovviamente questo il tema in discussione la delibera con cui è stata approvata la procura speciale per l'avvocato barile per l'udienza di fronte al group dell'aquila è stata approvata il 27 gennaio scorso e ieri è stata affissa resa nota pubblicata sull'albo pretorio niente penneschi né liquidi all'ex Shalimar per quanto l'incendio che si è verificato nei giorni scorsi lo hanno accertato durante l'inchiesta i vigili del fuoco e quindi non si sa che cosa abbia scaturito le fiamme l'unica certezza è che il rogo è partito all'interno dove per fortuna è rimasto circoscritto ma i gravi danni li si vedono si vedono appunto da questa immagine pubblicata dal Corriere passiamo ora alle pagine regionali dove si parla di ospedali ciclovie e fiumi c'è un piano da 138 milioni è il piano triennale dei lavori pubblici 2022 e 2024 reso noto dall'assessore alle infrastrutture Baldelli Francesco Baldelli è stato approvato dalla giunta regionale prevista la demolizione la ricostruzione del nosocomio di Tolentino e del distretto di Sarnano vediamo qui alcuni alcuni provvedimenti alcuni lavori pubblici che sono inclusi in questo piano triennale a partire dalla demolizione e ricostruzione del nuovo ospedale di comunità di Tolentino per 22 milioni 772 mila euro ed è il distretto di Sarnano per 3 milioni 45 mila euro oltre al ripristino del poliambulatorio di Offida per 3 milioni e 300 mila e la realizzazione della palazzina funzionale alle emergenze derivanti dai venti calamitosi dell'ospedale Profili di Fabriano per altri 4 milioni e passa ci sono poi 2 milioni di euro per il ponte ciclopedonale sul Chienti in provincia di Macerata 3 milioni e 200 mila per la ciclovia turistica dell'aso e 2 milioni e 7 per quella dell'esino infine tra le opere per la mitigazione idraulica spiccano la stabilizzazione e la rimozione del muro crollato a valle di San Filippo sul Cesano per 300 mila euro la manutenzione degli argini del fiume Metauro per 416 mila e le opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Esino per altri 3 milioni e 800 mila euro ed ora diamo un'occhiata alle pagine di Pesaro dove i ristoratori chiedono ancora più forte le dilazioni per il pagamento dei latari e sconti sulle bollette noi siamo alla frutta dicono le associazioni di commercio e gli albergatori chiedono anche un fondo di aiuti i PASO rincari dal 300 fino al 1000 per cento si vada subito ad un tavolo di concertazione ebbene Davide I PASO direttore della COF Commercio dice è necessario trovare una soluzione che sia rapida che sia soprattutto rapida perché poi le bollette arrivano e le scadenze sono molto molto ravvicinate occorre farvi fronte e quindi chi poi rimane senza soldi insomma rischia di chiudere bottega Mario Di Remigio presidente dei ristoratori non dimentichiamo che dobbiamo saldare anche i conti pregressi mentre Paolo Costantini presidente degli albergatori il comune si faccia parte attiva negli accordi con la multiservizi insomma si chiede l'intermediazione dell'amministrazione comunale per risollevare la categoria vediamo un altro argomento capitale della cultura Pesaro insomma l'inserimento tra i dieci finaliste ha insomma incentivato ancora di più gli entusiasmi per la promozione di tutti gli eventi culturali della città di Rossini capitale della cultura corsa per il recupero dei contenitori storici San Domenico Palazzo Ricci Auditorium Pedrotti e Museo e Biblioteca Oliveriani la partita si gioca su un incrocio di fondi e le capacità progettuali dello staff comunale e se non altro questo concorso per diventare capitale nazionale della cultura non fa altro che produrre provvedimenti che qualificano i beni esistenti in città Pesaro lo sta facendo e quindi anche se poi la fine non riuscisse a vincere insomma queste cose rimangono scavi per la fibra ottica strade come trappole proteste dal quartiere di Soria e la presidente Poderi s'appella al comune lavori più celeri e asfaltature corrette qui a piedi e in bici si rischiano e vediamo un po' qui uno stralcio di via Agostini piena di buche ma non è solo via Agostini in questo stato e qui in questa pagina si parla invece del ritorno dell'esame di maturità in presenza quasi all'antico presidi divisi una scelta discutibile Giombi di Fano del liceo classico Nolfi gli studenti si meritano un esame importante a Cili di uno stress che si poteva evitare e qui vediamo Antonella Cili insieme a Riccardo Rossini anche i loro presidi contatti stretti l'isolamento è un tibù e interviene Marchionni sulle quarantene insomma i ragazzi non sono molto contenti insomma del ritorno data che la situazione ancora non si è rasserenata del ritorno in presenza e soprattutto anche il ritorno degli iscritti insomma sono sempre delle difficoltà da affrontare Green Pass alle poste e in banca partenza senza intoppi ne code una situazione tranquilla anche in comune molti si sono presentati con il certificato verde in mano è trascorso dunque senza scossoni il battesimo del fuoco del Green Pass obbligatorio per le banche e le poste gli uffici comunali e le tante proteste dei giorni scorsi da parte del popolo del non pass sono state disattese e timori di disordini e rallentamenti delle normali attività degli uffici coinvolti sono state infondate insomma qui si è un po' rasserenata la situazione secondo quest'articolo del Corriere Adriatico vediamo invece entriamo in tribunale sempre a Pesaro e vediamo che le minacce di morte all'ex moglie sono il conquibus di una udienza che ha scoinvolto il cui oggetto ha sconvolto appunto una famiglia il pubblico ministero chiede due anni di carcere per un sessantenne e il giudice lo condanna a tre quindi una pena ancora più severa le minacce di morte e maltrattamenti reiterati nel tempo in un crescendo di violenza verbale non solo condanna in aula per l'ex marito il caso riguarda i comportamenti di un sessantenne di origini pugliesi per il quale era scattato un divieto di avvicinamento nei confronti della ex anche lei pugliese di alcuni anni più giovane entrambi residenti nel pesarese voleva che lei lasciasse l'abitazione dove viveva con il figlio perché lui pagava l'affitto insomma un uomo anche qui violento e sono diversi i casi di violenza sulle donne che vengono appunto rievocati in tribunale veniamo a valle foglia montecchio piange berarducci addio all'ex sindaco professore è deceduto il primo cittadino di sant'angelo in lizzola governò la città dal 75 all 81 e era un insegnante di italiano domani si svolgeranno i funerali vediamo qui appunto una foto del ex sindaco che è deceduto vediamo un attimo ok a urbino invece vediamo un incidente sulla strada uno schianto frontale contro un camion un padre di quattro figli è deceduto sulla flaminia deceduto sul colpo paolo formica di 61 anni residente a cagli stava tornando a casa per il pranzo vediamo appunto qui una fase dell'incidente e poi invaso di mercatale studio uni urbe sulle pratiche agricole condotto per conto del consorzio di bonifica pubblicato su land in conclusione una notizia di sport vediamo che la vis cerca gloria anche a ponte d'era e l'incontro oggi dopo il blist di pistoia altra trasferta in toscana da prendere con le molle vediamo anche il fano calcio fano servono tre punti oggi l'importante recupero con la rivelazione portodascoli ma in granata devono a tutti i costi vincere e questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno a questa sera alle ore 20 30 an occhio alla notizia condotto da simona zonghetti questo è tutto buona giornata grazie a tutti